la Lidia online presenta i giorni della settimana i giorni della settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica ascolta la pronuncia poi ripeti ad alta voce lunedì lunedì martedì mercoledì mercoledì giovedì giovedì venerdì venerdì sabato sabato domenica domenica che giorno è oggi oggi è al presente oggi nel passato ieri nel futuro domani esempio oggi è domenica ieri era sabato domani è lunedì completa con il giorno della settimana presente oggi è mercoledì passato ieri era martedì futuro domani è giovedì presente oggi è venerdì passato ieri era giovedì futuro domani è giovedì futuro domani è sabato presente oggi è lunedì passato ieri era domenica domenica futuro domani è martedì se ti è piaciuto questo video metti un like ed iscriviti al mio canale la Lidia online per non perderti i prossimi video ciao ciao